... Semplicemente le regioni devono essere diverse e questo era uno dei progetti del nostro costituente, tra l'altro, che è stato poi... E' un corpo elettorale che si riunisce soltanto per alcune occasioni, tipo l'elezione del capo dello Stato o per sentire il suo rischio. E' un'invenzione della mente giuridica, ma in realtà della mente politica, che è la Costituzione rigida. E' un'invenzione della mente giuridica. Grazie.